Sono Giorgia Carniglia, lavoro in Irenacqua e sono assistente tecnico in pianti di depurazione. Il nostro scopo è mantenere l'acqua depurata tutto l'anno, sempre, e non farci mai cogliere impreparati. La cosa più bella del mio lavoro è sicuramente la collaborazione con i colleghi, perché da soli non si riesce assolutamente a raggiungere l'obiettivo. Bisogna saper correre avanti e indietro per riuscire a far funzionare in efficienza tutto quanto. Sicuramente è un lavoro completo, dinamico e non ci si annoia mai.